benvenuti al coffee break tutto juventino oggi voglio fare veramente i complimenti perché sono spesso polemico e attacco spesso la nostra società per problemi sportivi perché a livello è indubitabile che a livello sportivo la nostra società abbia dei grossi limiti non ha un direttore sportivo all'altezza hanno un allenatore con idee antiche un presidente che ha fatto confusione per non dire qualcos'altro abbiamo insomma siamo sotto la lente di ingrandimento di tante problematiche stipendi plus valenze e via discorrendo però 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 c'è un però sì c'è un però e qui va riconosciuto che calvo ha rimarcato questa cosa in maniera molto 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 attente molto intelligente il nostro attuale responsabile della sportiva per quello che riguarda una delle cose più importanti a mio modo di vedere che va al di là del gioco del calcio che è il rispetto della 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 razza e rispetto del colore della pelle e l'intervento delle forze dell'ordine per andare a sgominare questi individui vergognosi e beceri ebbene dovete sapere che quando c'è stata la partita juventus inter a torino ci sono stati ormai la storia la sapete inutile che ve la ripeta dei cori razzisti nei confronti di lukaku delle cose molto molto brutte che non dovrebbero mai accadere perché io l'ho detto più volte tutti nella juventus e ti fai i bei i bei cori contro la juve al limite ti metti a cantare e a saltare chi non salta nero azzurro è che non si offende nessuno e per conto la curva nero azzurra ti risponde chi non salta bianco nero è bellissimo goliardico simpatico sfottò senza offendere nessuno quando invece si tratta di andare a dare fare dei cori razzisti di qualsiasi tipo contro quelli dell'est contro quelli di colore contro i giapponesi contro chi volete voi non va bene non va assolutamente bene a parte che non va cioè bisognerebbe proibire proprio di attaccare le altre persone purtroppo però il mondo attuale fatto di social di di media un po troppo esagerati si va un po troppo nella vita privata degli altri e quando uno magari vuole muoversi per andare a intervenire ha un'unica risoluzione che è quella di rivolgersi a un avvocato perché non esiste che una struttura come un facebook come un twitter come un youtube come un instagram le prime che mi sono venute in mente se tu segnali che c'è un mobbing un bullismo nei confronti di qualcuno non c'è modo che intervenga poi magari tu dici una roba che fai da ripolli no e ti segnalano delle robe delle robe che non stanno veramente né in cielo né in terra ma veniamo a noi perché dico che voglio parlare bene della nostra juventus in questo coffee break perché la nostra juventus la nostra società non si è semplicemente limitata a stigmatizzare questi cori beceri schifosi nei confronti di rumelo lucaco ma bensì ha messo a disposizione delle forze dell'ordine tutte le registrazioni visive dello stadio durante l'evento e ha portato a 171 d'aspo signori questa è una grande vittoria noi siamo siamo ci entusiasmiamo quando vinciamo la champions league quando vinciamo lo scudetto quando portiamo a casa una coppa quando battiamo l'inter 3 a 0 il napoli mila chi volete voi questa è una grande vittoria a livello di vita civile è una grande vittoria perché 171 imbecilli 171 idioti sono stati bloccati per sempre dallo stadio di torino questi 171 imbecilli non potranno più andare a rompere le scatole a nessuno allo stadio allo stadio sono stati per usare un termine youtube bannati ok questa è una grande cosa è un grande merito che alla juventus peccato che i giornali non evidenzino questo grande merito della juventus sempre pronti a stigmatizzare quando c'è qualcosa che è in qualche maniera vede naviga nel torbido per la juventus quando invece la juventus fa una grande cosa è come quella di collaborare con le forze dell'ordine per sgominare 171 imbecilli richiamo così perché magari sono anche persone che nella vita normale sono anche brave persone ma se tu però è lo stadio tu puoi essere bravo finché vuoi ma se tu vai allo stadio e ti metti a fare dei cori razzisti contro un ragazzo di colore o contro un ragazzo dell'est tu sei un imbecille punto molto semplice molto semplice perché se tu nascevi di colore non facevi cori contro quelli di colore se tu nascevi nell'est non facevi cori contro quelli dell'est quindi tutto lì non hanno nessuna colpa a parte che non è una colpa esser di colore o esser dell'est non hanno nessuna colpa la colpa è tua che sei un ignorante e un becero punto quindi brava juventus veramente brava società juventus tutti insieme perché sicuramente è stata una collaborazione da più parti va bene compreso è il canteo critico sempre ma per altre cose che ha permesso di sgominare questi individui così facendo se tutti facessero come fa la juve io credo che fra qualche anno il calcio potrebbe diventare veramente quel teatro che molti bramano dove possono andare le famiglie con i bambini con la moglie a vedere le partite potrebbe veramente diventare così peccato che le altre società fanno finta di niente è vero la juventus ha una struttura all'avanguardia allo stadio di proprietà e quindi però voglio dire la juventus per avere lo stadio di proprietà e avere una struttura all'avanguardia ha speso danari ha investito capitali ok giusto quindi io sono in questo momento riferimento questo a questa situazione del 171 d'aspo io sono orgoglioso di tifare la juventus a livello sportivo mi dà un po da pensare e mi fa un po penare ma ci sta perché non puoi vincere sempre come si dice no purtroppo io noi juventini vorremmo vincere sempre ed è il nostro dna quello di voler vincere sempre e forse questo ci frega perché dovremmo anche accettare a volte quando ci sono annate anche magari ripetute nel tempo che non vinciamo però quando si tratta di andare a sgominare degli imbecilli dei beceri io faccio i complimenti alla juventus spero che questa cosa vi renda orgogliosi come lo sono io perché ripeto in italia per adesso c'è solo la juve che fa queste cose perché ricordatevi che non ha bloccato due tre quattro persone 171 persone non potranno più andare allo stadio e se far questo 171 persone c'è qualcuno che è stato preso dentro dall'entusiasmo e si è messo a urlare contro lukaku adesso piangerà lacrime amare perché magari nel suo nell'intimo della sua casa della sua dimora dirà ma cosa mi è venuto in mente adesso non potrò mai più andare a vedere la juventus bravo furbo bravo furbacchione sei un genio la prossima volta ti stai zitto e lasci urlare quei quattro deficienti che hanno iniziato il coro ed è risolto il problema perché se tu vieni colto in fallo le telecamere mentre tu invochi contro e muovi le mani contro ti bloccano brava juve brava juve brava juve te lo direi 171 volte ma non ce la faccio perché poi mi manca il fiato ci vediamo alla prossima ciao